Maglio Di Stefano, sottosegretario degli affari esteri, buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. Benvenuto a Studio 24, vado tra un secondo da Marzio Quaglino per vedere come partono e sono partiti questa mattina i mercati finanziari, però Di Stefano, a proposito di Bruxelles, ieri Moscovici al solito non è che ci ha girato attorno, ha detto in Italia avete un governo xenofobo e anti-euro. Mi dà il suo tweet di risposta? La mia risposta è abbastanza semplice, se non è in grado di fare il suo lavoro è meglio che cambi mestiere, perché definire il governo col più alto consenso in Italia è la storia della Repubblica, con uno schiacciante risultato elettorale a suo favore, un governo di xenofobi, vuol dire che sta andando di xenofobi a milioni e milioni di italiani e siccome oltre a non doversi permettere, lui è anche lo stesso che quando era ministro in Francia fece un rapporto di deficit PIL ben più alto di quello che stiamo proponendo, evidentemente siamo davanti al classico caso di chi predica bene e razza la male, questo tra l'altro ne sono campioni in Europa di questo. Allora, noi lo ricordavamo stamattina il Rassegna Stampa, si dice molto, ma sono in campagna elettorale, Lega e Movimento 5 Stelle sono in campagna elettorale tutti, perché a maggio si vota in tutta Europa, compreso evidentemente Pier Moscovici. Sul rapporto deficit PIL, sulle misure della legge di bilancio, anzi intanto della nota di aggiornamento al DEF, archiviamo tra un secondo, Marzio Quaglino ci dai l'avvio dei mercati finanziari, buongiorno. Buongiorno, partenza dall'andamento incerto, c'è ancora nervosismo sui mercati, anche per quello che riguarda lo spread che era disceso in partenza e poi è ritornato a salire anche se non si sta avvicinando alla quota di 300 punti base toccata ieri, lo vediamo a 282 con un rendimento del BTP decennale al 3,36. Nervosismo, dicevo, anche in borsa, Milano sta oscillando molto, in questo momento perde mezzo punto percentuale, però è in linea con l'andamento negativo delle altre principali piazze del vecchio continente, con questo restituisco la linea. Grazie a Marzio Quaglino, senta Di Stefano, con quanta ansia e preoccupazione guarda lo spread? Lo guardiamo ovviamente, ci interessa perché identifica poi la credibilità del Paese verso i mercati, però va chiarita una cosa, la sovranità di un Paese, ma soprattutto l'azione politica di un Paese non può essere vittima dei mercati, deve guardare ai mercati senza esserne vittima. Io non piegherò mai la necessità che hanno 10 milioni di italiani sotto la storia di povertà, una vita dignitosa, agli andamenti del mercato e alle richieste di chi pensa che oggi la finanza debba avere il predominio sulla dignità delle persone. Nemmeno se va sopra a quota 400? No, non siamo in questo caso, quindi non c'è motivo di commentare una cosa che ad oggi non è credibile, sinceramente. Ok, quindi 300 però si può tenere questa nota di aggiornamento al DEF con questi livelli? Assolutamente sì e ribadisco una cosa, tutti oggi si sono accorti che stiamo facendo una manovra con un rapporto deficit pilla al 2,4% quando negli ultimi 5 anni la si è fatta fino anche al 2,6%, quindi voglio dire la politica è l'arte di mettere i soldi dove servono, se vogliamo semplificarla al massimo e allora noi abbiamo delle necessità per le quali siamo stati votati e vogliamo rispettarle, questa è la novità italiana, finalmente c'è un governo che fa quello che ha detto in campagna elettorale. Allora mettere i soldi dove abbiamo detto saremmo intervenuti, la Lega immagina flat tax e riforma fornare, voi evidentemente immaginate reddito di cittadinanza, sì ma quanti soldi, perché sentite i titoli poco fa per voi 10 miliardi, per Salvini 8 miliardi, quanti soldi ci sono su Cadiz? Su Reddito sono 10 miliardi, ma in generale la manovra prevede anche 15 miliardi di investimenti, però anche qui è molto una leggenda il fatto di quanti soldi ci sono e quanti non ce ne sono in Italia, perché vi ricordo che in una notte, ad esempio ora non veramente per voler parlare sempre del passato, ma in una notte Renzi trova 20 miliardi per coprire la banca di famiglia della Boschi, quindi i soldi ci sono, il punto è andare a metterli dove servono, noi oggi pensiamo che l'Italia abbia delle priorità, che sono il lavoro, la dignità delle persone sotto la soglia di povertà, la sicurezza delle infrastrutture e onestamente non accetteremo mai che qualcuno ci dica che dobbiamo far crollare i ponti perché non possiamo aumentare un po' il debito, anche perché grandissime teorie, le teorie chinesiane dal Madallina avanti dicono che immettere liquidità in investimenti infrastrutturali ad esempio, porta a un ritorno di lungo periodo ben maggiore con un moltiplicatore più alto, noi pensiamo di poter partire con questo rapporto deficit PIL e nel giro di pochi anni ridurlo anche molto di più di quello che oggi ci chiedevano di fare. Allora siccome non è che è così semplice da far partire, serve adeguare i centri per l'impiego, bisogna studiare come funziona il meccanismo della carta o di una prepagata con dentro quei soldi del reddito di cittadinanza, farlo partire quando? Allora, 2019, primavera 2019 è quello che abbiamo detto. Sarò cattivo quindi appena prima le europee? Sai che diranno che sono con meglio tante euro di rete? No, non c'è nessun legame, ve lo dico onestamente, non c'è nessun legame tra le cose, è un dato tecnico, se entro dieci mesi approva la manovra devi far partire poi tutti i decreti attuativi, il Ministero di Verona dei Guardi Centri per l'Impiego, ci vuole tempo, infatti io dico primavera 2019 come stima è possibile, però può essere anche un po' dopo sicuramente, non credo prima sinceramente. Senta, si è occupato affari esteri, vedremo al rapporto con la Commissione europea che abbiamo detto non necessariamente sarà semplice perché le avvisaglie dicono che questo passaggio di nota aggiornamento a DEF e di legge di bilancio è tutto da concordare, però ancora un paio di cose sul reddito di cittadinanza, a chi lo diamo? Solo a chi ha la carta di identità italiana, compresi Rom però, che sono italiani, cittadini. Chiunque sia italiano ci mancherebbe altro, non potremmo tra l'altro neanche fare altrimenti perché si tratterebbe di discriminazione e noi non siamo assolutamente vogliosi di discriminare nessuno, quindi sì, chiunque sia italiano e sia sul nostro territorio ha diritto a reddito di cittadinanza. Anche perché tutti quelli che sono sul nostro territorio, Rom o meno, se sono italiani contribuiscono alla crescita del nostro paese. Anche se sono stranieri però contribuiscono e lavorano nel nostro paese. Sì, però bisogna evitare distorsioni dell'utilizzo del reddito come appunto venissero a cercare venendo in Italia apposta, quindi bisogna stare attenti mettendo dei paletti chiari. Allora, tra i paletti chiari ieri Luigi Di Maio diceva le spese morali, non morali, ma quei soldi al di là dell'elenco che poi verrà, se verrà, quello che ci si può comprare o meno con quei soldi, quella quantità di Euro che non per tutti sarà 780 Euro, è quello che serve per arrivare ai 780 Euro, una volta al mese, cioè va finito dentro la fine del mese o si possono ottenere quei soldi per spese future? No, questo sinceramente credo che sia da definire poi nei decreti attuativi e soprattutto nel lavoro che fa il Ministero per verificarlo, non ho una risposta adesso, però il concetto è molto sano e c'è un prima e un dopo secondo me questo governo. Noi oggi stiamo dicendo chiaramente, il governo è dalla vostra parte, persone che avete difficoltà e in generale tutti gli italiani, voi però dovete rispettare il fatto che c'è un paese intero che per dare una chance a tutti si sta impegnando in un processo di cambiamento, allora non puoi ingannare, non puoi usare i soldi di ritorno per andare a giocare le slot machine ovviamente, devi utilizzarli per la tua vita, per far crescere in modo dignitoso la tua vita, quindi pagarti l'affitto, pagarti la spesa, cose di questo tipo. Questo è il messaggio, le spese immorali con una definite Luigi, per me sono tutte quelle che non hanno nulla a che vedere con la tua vita. Con la sussistenza diciamo in questi termini. Allora, tutto questo deve passare per Bruxelles che valuterà non solo i numeri freddi, ma anche come questo scostamento dagli impegni che ci eravamo presi verrà utilizzato, una manovra di qualità dice il Ministro Tria, a proposito è ancora il vostro Ministro, piena fiducia. Esattamente sì, tra l'altro Tria è proprio lui quello che è riuscito a far funzionare tutta questa manovra poi, perché la firma ce la mette lui, la faccia ce la mette lui e quindi era normale. Lui ne avrebbe firmata un'altra, con un deficit un po' diverso nel rapporto al PIL. Vabbè, però il Consiglio di Ministro serve proprio a quello, a vedere cosa vogliono i partiti che sostengono il governo e quindi portare avanti quelle riforme. A proposito di Tria, leggero stamane il Fatto Cotidiano che non è proprio un giornale ostile al Movimento 5 Stelle, parlava di un rimescolamento, magari a fare il Ministro da voi Alessandro Di Battista e Paolo Savona all'economia. Ma io credo che da oggi che il Fatto Cotidiano ha lanciato questa cosa, fino a dicembre quando tornerà il mio amico Alessandro, ogni giorno ci sarà qualche articolo che parlerà di cosa farà Di Battista tornando in Italia. Cosa farà, visto che sono i miei consigli di sentire. Dovete chiederlo a lui, io credo che lui abbia un suo progetto, che per ora è un progetto editoriale e sta bene in quello che fa e soprattutto non credo che questo sia quello che interessa agli italiani. I italiani hanno in questo momento una squadra di ministri al completo che lavora per loro e devono stare tranquilli. Allora, quello che interessa agli italiani è inevitabilmente quello che ci dirà la Commissione Europea, se ci chiederà delle correzioni, perché le norme che l'Italia ha deciso di accettare e che valgono per tutta Europa prevedono che noi mandiamo una nota d'aggiornamento, la legge di bilancio in Europa, loro la valutano rispetto alle regole europee e ci dicono bene, non bene, correggete o la bocciamo, riscrivetela del tutto. Se ci dicono non va bene, riscrivetela? Continuiamo ad andare avanti con questo testo. Con tutti i rischi che questo può comportare? Ripeto, i rischi quali sono? Noi in questo momento abbiamo anche quest'anno la Francia di Macron che tanto pontifica dall'alto, ha un rapporto deficit PIL fuori dagli standard europei, la Germania ogni anno è in violazione perché ha un export maggiore di quello che dovrebbe avere. Mi sembra di capire che in Europa chi ha il sistema paese dalla sua parte e quindi tiene un po' più bassi toni, cosa che in Italia non succede mai, può permettersi di fare quello che gli pare. L'Italia è sempre al centro delle attenzioni perché è il paese che deve rispettare tutte le regole e dove, per carità, quello è poi un segno di buona democrazia, quando qualcosa sta andando in una relazione diversa parte ovviamente il chiacchiericcio interno che alimenta una serie di cose, tra cui i mercati. Io credo che oggi sia importante dire all'Europa che noi abbiamo un progetto preciso. Ma lei pensa che siano le discussioni politiche interne, quello che dice l'opposizione che alimenta i mercati o una scarsa fiducia nei confronti del paese che ha sempre un debito mostruoso, 130% in rapporto al PIL, cioè non è quella la vera fragilità dell'Italia? La fragilità che ereditiamo è evidente, ma ci mancherebbe altro, dagli anni 80 in avanti il nostro debito è cresciuto in maniera smisurata. Altrettanto vero che l'Italia ogni anno comunque ha un avanzo primario importante, vuol dire che il nostro è un paese solido, con un'economia solida e un mercato forte, però qua la cosa è molto chiara che devono capire soprattutto in Europa, noi abbiamo un progetto politico preciso e sappiamo a fronte di questa manovra cosa vogliamo ottenere nel giro di qualche anno. Non possiamo pensare che un paese sia un'azienda che ogni anno debba chiudere il suo bilancio inattivo, un paese deve programmare una politica di lungo periodo nell'interesse dei suoi cittadini, l'Europa deve capire questo, noi non vogliamo dire facciamo come ci pare, tanto poi se ne riparla il prossimo anno, noi stiamo portando un progetto preciso, quindi se capiscono questo andiamo avanti in serenità e pace, altrimenti noi andiamo avanti lo stesso. Altrimenti noi andiamo avanti lo stesso, questo è già un punto fermo. A proposito delle dichiarazioni, molto si è discusso di quello che ha detto Borghi l'altro giorno, l'Italia sarebbe meglio con un'altra moneta, mi dice cosa ha pensato quando ha sentito questa cosa? Le teorie di Borghi le conosciamo da tempo, ognuno è libero di avere le sue teorie, io credo che oggi l'Italia non possa prescindere in questo momento dal suo attuale quadro, quindi Unione Europea ed Eurozona. Poi, le teorie che dicono che saremmo meglio con una moneta nostra, ce ne sono tante, ma non vuol dire che sia il progetto di governo e non lo è infatti. Allora, oggi è il 4 di ottobre che è San Francesco, io sono Umbro, per carità siamo legati a tutto, però anche in qualche modo è la festa del Movimento 5 Stelle che in questa data è nato. Ecco, il Movimento 5 Stelle delle origini glielo metto così, davanti al concetto di pace fiscale avrebbe detto, guardate è un condono mascherato, quello di oggi che dice? No, guardi, le dico sinceramente, questi anni che abbiamo passato in Parlamento soprattutto ci hanno fatto rendere conto di alcune distorsioni, oggi il sistema di recupero credit italiano è un sistema veramente distorto e vessatorio, abbiamo tantissimi imprenditori per bene che non ce la fanno, che non ce la fanno a pagare una rata di una bolletta e si trovano con l'agenzia di rientrata sul collo. Noi con questa riforma non vogliamo avvantaggiare chi ha grandi capitali e non paga le tasse, vogliamo cercare di riportare nella normalità le persone normali che hanno debiti massimo fino a 100 mila Euro, quella è la stima di cui vi sta parlando, e fare con loro un percorso per rientrare dal loro debito. Quindi non più di 100 mila Euro, mezzo milione Stiamo parlando di questo però, dei 100 mila Euro. Detto ciò, auguri al Movimento 5 Stelle perché oggi, io quel giorno c'ero tra l'altro al Teatro Sbenaldo di Milano e c'è un motivo preciso per il quale siamo nati nel giorno di San Francesco, non devo neanche ricordarlo. Sì, per carità, poi l'altra cosa è come si può convivere con chi deve dare 49 milioni nello Stato. A quello i giudici hanno trovato il modo per fargli ridare, noi abbiamo detto fin dal primo giorno, di questo credo non ci possa attaccare nessuno, noi dal primo giorno abbiamo detto, chi deve dare soldi inietro deve darli, punto, per noi è un punto fermo questo, anche perché noi siamo quelli che invece neanche le prendiamo quei soldi, quindi figurarsi se vogliamo nascondere nessuno. Hanno trovato un modo per farlo, va bene così. Le volevo chiedere alcune cose sui migranti, però prima volevo farvi vedere se ce la facciamo tra qualche istante, lo vediamo, quello che ha detto Yanis Barufakis rispetto all'Italia, insomma lui è uno che con le politiche contro l'austerity e quant'altro ha maneggiato molto, ha pagato anche politicamente, tra qualche istante siamo in grado di farvelo vedere col tablet, comunque nella sostanza dice, beh avete rinunciato, eccolo qua, l'Italia fa questo tipo di scelta, allarga un pochino il rapporto deficit-pill per quest'anno e poi invece lo restringe quando c'è un calo di crescita e l'austerity in azione, ma lui di Stefano mi dia, no, non c'è niente d'austerity in questa manovra, giusto? Altrimenti non avremmo tutti i commissari europei contro, mi sembra evidente, no? Allora, nel concetto d'austerity, Barufakis è una lettura un pochino più radicale della vostra, dicevo Italia-Europa si porta dietro anche il rapporto... Anche lui però che parla di quelli che avevano le ricette e hanno sbagliato tutto, mi sembra che anche lui abbia fallito abbastanza in Grecia, tant'è che... Che non fa più il ministro dell'economia, risposta. Appunto. A proposito di Italia-Europa, l'altro tema è quello dei migranti, io la prima cosa che le voglio chiedere è, perché non c'era nessuno a Lampedusa ieri? Giornata della memoria delle vittime dell'immigrazione. Nessuno del governo, intende? Sinceramente non lo so, nel senso che noi eravamo in aula con tutti i parlamentari e ognuno di noi stava facendo il suo lavoro, sinceramente non so per quale motivo. Perché è una senza che è la prima volta che un governo italiano manca a quell'appuntamento, parliamo di quasi 400 vittime di 5 anni fa. No, sinceramente non lo so, non so chi fosse delegato a esserci e quindi non so darvi una risposta. Detto ciò, ora al di là di tutto noi abbiamo sempre detto che non sono le giornate della memoria che risolvono i problemi, le abbiamo anche criticate in passato, anche in realtà quando si è istituita questa giornata della memoria, la criticammo il fatto che mentre non si faceva nulla per risolvere il problema si piangevano i morti e basta, di questo siamo campioni purtroppo in Italia. Noi raccontammo la visita di Barroso all'epoca della Presidente della Commissione, lì in quel luogo, Barroso molto commosso, non deve succedere più, purtroppo è continuato a succedere, purtroppo raccontiamo situazioni di simile. Poi Donnale in Padre si è dimenticato di quello che ha detto, per quello che dico le giornate della memoria, contano poco se non si risolvono le cose. Il tema migranti si porta dietro inevitabilmente il rapporto col paese dal quale partono, almeno nell'ultimo tratto di viaggio, che è la Libia. Noi ancora non abbiamo un ambasciatore, nel senso che il nostro è ancora in Italia perché ci sono tensioni in quel paese, ecco non abbiamo un ambasciatore eppure per l'Italia la Libia è un porto sicuro dove far tornare le navi, non c'è la contraddizione. Comunque la nostra ambasciata è operativa a Tripoli, c'è una questione legata all'ambasciatore anche, sono stati dei problemi che avete anche visto in questi ultimi giorni. Sì, legati al voto, a quando si voterà il Libia. Esatto, per ora la nostra ambasciata è operativa ed è una tra l'altro delle poche, credo che siano due o tre operative a Tripoli in questo momento, ma il nostro percorso è chiaro e preciso, tra l'altro è quello che io personalmente dico da anni, noi faremo la conferenza a Palermo come si è annunciato dal Ministro Moavero, la faremo con un formato ben diverso da quello che ha provato a fare Macron a Parigi, quindi con allargato, il cosiddetto formato Roma, quindi allargato a più delegazioni e che includa anche i rappresentanti reali del popolo libico, ovvero le varie milizie, tribù, tutti al tavolo per poter davvero capire che futuro darà la Libia. Significa garantire intanto stabilità e cessate il fuoco ad ogni livello e programmare poi insieme il momento giusto per fare le elezioni. Per noi, così lo chiariamo, le elezioni sono una priorità, ma è altrettanto vero che sono una priorità che deve decidere il popolo libico quando è il momento di fare e questo deve essere chiaro, non può arrivare un paese, la Francia o l'Italia e dire domani fate le elezioni, la conferenza servirà proprio a capire quando è questo domani. Quindi parlare solo con Al Serrage non basta più, nel senso forse non è mai bastato. Non l'abbiamo mai sostenuto, anzi io ho sempre detto il contrario, bisogna parlare con tutti. Quello che ha fatto l'Italia però negli anni passati. L'Italia però ha sempre detto di riconoscere il mandato diciamo europeo di Serrage, però siamo sempre mossi con molto realismo parlando un po' con tutti. Il problema è che forse l'errore fatto, senza voler fare critica a Aspra, non è questo il caso, nei governi precedenti, specialmente da Minniti, è stato pensare forse che bastasse parlare con due o tre detentori del potere in Libia per risolvere la cosa. In realtà in Libia c'è una realtà che conta quasi un centinaio di tribù e milizie varie, quindi devi avere un'azione sul territorio molto più vasta, motivo per il quale abbiamo ricevuto il sostegno degli Stati Uniti, ma anche recentemente dell'interno dell'Unione Europea che ci riconosce questo mandato. Io stesso alle Nazioni Unite ho partecipato a un incontro proprio sulla Libia e abbiamo definito esattamente queste cose. L'ultima cosa poi la saluto e andiamo anche avanti con gli altri ospiti, riguarda Orbán. Lega e 5 Stelle hanno votato in modo diverso all'Europarlamento. Il tema era l'Ungheria viola o no i principi fondanti dell'Unione Europea? Voi avete detto sì, come altre forze politiche, ora però il governo italiano dovrà prendere una posizione perché è il Consiglio Europeo, quindi i capi di Stato e di Governo che devono prendere una posizione, quale? Questo lo deciderà Giuseppe Conte che è il Presidente del Consiglio. Io credo che tutto si possa accettare in Europa, variazioni di bilancio, conti, quant'altro, ma sui diritti dell'Unione Europea, ovvero i diritti umani, i diritti fondanti, i valori, non si possa scherzare, non si possa sbagliare. L'ho ribadito anche, ripeto, alle Nazioni Unite, incontrando tutti i paesi dell'est Europa, alcuni di quali fanno blocco con l'Ungheria nei paesi vicegrad. Per me è giusto pensare di riformare l'Europa, ma sui suoi valori, che sono i valori della democrazia e della libertà degli esseri umani. Grazie a Maglio Di Stefano, al Sottosegretario degli Affari Esteri, per essere stato con noi in questa prima parte di Studio 24.